È una struttura storica che ha ospitato e visto l'inizio della carriera di tanti atleti fanisi e che è sempre rimasta nel cuore di tutti. La palestra Borgo Metauro, intitolata ad Anna Zattoni, però necessitava da tempo di una ristrutturazione straordinaria e l'assessore Christian Fanisi questa mattina ha annunciato l'avvio dei lavori subito dopo Ferragosto. In particolare, l'intervento prevede la messa norma dell'impianto con l'adeguamento necessario per ospitare anche gare di primo livello, spogliatoi per arbitri, una sala di primo soccorso e il rifacimento dei servizi igienici. L'investimento dell'amministrazione è di circa 90.000 euro, mentre la società Adriatica Volley ha contribuito presentando un progetto che l'ufficio comunale ha fatto proprio. La Borgo Metauro è una palestra nella quale interveniamo, interveniamo con questo intervento importante, la ristrutturiamo, rendiamo più efficaci e efficienti i servizi igienici ed è una palestra in cui la città di Fano, il quartiere di San Lazzaro in particolare, è molto legata perché la società che la utilizza, l'Adriatica Volley ha 62 anni di vita, la Borgo Metauro è quella palestra vicino allo stadio Mancini a Fano ed è una realtà a cui la città è legata, è legata dal punto di vista affettivo, addirittura la società nasce insieme al quartiere di San Lazzaro e quindi è sicuramente per quel quartiere, per tutta la città è un elemento molto importante e poi si fa avviamento allo sport e questo è sempre bello perché ovviamente avere dei ragazzi più o meno giovani che frequentano queste situazioni è sicuramente una cosa molto positiva per la socialità, per l'accrescimento della nostra città. È importante perché gli interventi sullo sport, ne presentiamo uno ogni tanto, sono interventi importanti, anche non grandissimi, ma sicuramente utili per rendere più vivibili gli spazi, per rendere anche più accoglienti le palestre, le situazioni anche per i nostri bambini che possano frequentare e quindi magari non stare in giro ma far parte di una società che magari li guida e li fa crescere in maniera diversa.